eccoci in diretta live ore 21 e 09 sulla pagina pubblica Paolo Piffer civicamente con due ospiti a loro modo tutte e due centrali che chi più chi meno in modalità diverse sul tema della mobilità in città ringrazio saluto Lorenzo Brusadelli ciao Lorenzo buonasera a tutti e ringrazio e saluto anche Thomas Valentini ciao Thomas ciao Paolo ciao Lorenzo allora parleremo naturalmente oggi di mobilità io di mio nonostante qualcuno potrebbe contraddirmi con una certa facilità cerco di fare dirette che non durino mai più di 30 minuti quindi dobbiamo cercare di concentrare i temi tanto ci saranno altri spunti e altre occasioni per tra l'altro alcune dirette Lorenzo ti ho visto ti ho seguito l'hai già fatta e quindi ci sa c'è tanto modo di parlare di questo tema cerchiamo di essere rapidi e sintetici perché sui social è la modalità un pochino questo sono il rischio quello poi di perdere l'attenzione di chi ci sta guardando quindi non sembrerò un po' maleducato ma ogni tanto sarò incalzante nel diciamo cercare di tirarvi fuori i concetti più importanti allora intanto ringraziamo tutte le persone che ci seguiranno ricordiamo che il post può essere condiviso potete mettere like e potete naturalmente scrivere nei commenti come stanno facendo Laura come sta facendo Maria Stelle come sta facendo già Giustina potete scriverci domande e questioni e intanto faccio subito vedere a Lorenzo e a Thomas quello che i potenti mezzi vedete io posso prendere il commento e metterlo direttamente nel sulla sulla diciamo sul video così se c'è qualche domanda non potete non distrarvi sui commenti ci penso io intanto Lorenzo presentati anche se nel post ho fatto una breve introduzione chi sei che cosa fai e perché sei così importante per la città di Monza nell'ambito della mobilità ma io appunto non so chi chi mi conosce chi no perché da poco in realtà sono presidente di dell'associazione FIAB Monza in Bici che fa parte si unisce a questa rete che è nazionale FIAB che è Federazione Italiana Ambiente Bicicletta di cui fanno parte 140 associazioni in tutta Italia che appunto fanno rete in questo modo quindi diciamo a livello locale più cittadino c'è magari la FIAB di Monza o di altre città che si interfacciano con le singole amministrazioni poi c'è il coordinamento regionale e poi invece quella proprio nazionale una onlus che dialoga direttamente con con il governo. Ecco qua ho subito una mia curiosità conosco FIAB Monza in Bici naturalmente salutiamo Luciano tutte le persone super attivisti dell'associazione. Voi interlocuite molto con la vostra diciamo madre nazionale c'è dialogo all'interno di FIAB Monza in Bici piuttosto che di tutte le diverse regioni c'è un bel confronto internamente? Sì diciamo cioè ci sono sia dei momenti adesso ad esempio la riunione dei presidenti è stata rimandata questo ciclo raduno che viene fatto ogni anno però comunque è anche presente una lista dei presidenti in cui ci si scambiano varie informazioni più il coordinamento più la rete di informazioni ce ne sono tantissime anche a livello tecnico ad esempio ci sono dei gruppi tecnici che aiutano magari alcune associazioni su alcune questioni appunto nel merito sulla ciclabilità rispondere dei quesiti che non siamo tecnici io di sicuro non lo sono quindi un po' lo si è detto però a forza di studiare di chiedere di interlocuire con la politica un po' sì però il mio mestiere è un altro quanti anni hai Lorenzo? Io ho 35 anni 36 facciamo 36 facciamo 36 Thomas Valentini invece introduciti chi sei? Io chi sono? Io sono un appassionato di mobilità appassionato di mobilità nel senso che da 25 anni mi occupo di questa cosa tra l'altro il mio primissimo lavoro era stato uno studio sull'accessibilità del parco di Monza per cui il cerchio torna no alla fine e niente mi occupo di mobilità di pianificazione della mobilità e prendo la palla al balzo per chiarire un punto che secondo me a volte fa crea confusione la mobilità è quella di cui mi occupo io in generale cioè la necessità delle persone di muoversi sul territorio o la necessità che le merci buona sostanza vengano trasportate sul territorio che è tutt'altra cosa rispetto alla viabilità che a molte volte viene utilizzata come come sinonimo sinonimo in realtà la viabilità tecnicamente è la progettazione e manutenzione delle reti stradali per cui ottima precisazione ottima precisazione tra l'altro anche in politica si dice è la delega la viabilità la mobilità come dire stessa roba quella cosa lì insomma e invece no è una precisazione importante tanto quanto quella che hai fatto prima che la mobilità si occupa si interessa del trasporto delle persone e delle merci quindi è una complessità aggiunta una variabile aggiunta perché quando si ragiona sui flussi di traffico all'interno di una città bisogna pensare io cittadino un cittadino è portato a pensare sempre alla persona che si deve spostare per andare al lavoro per andare a scuola per raggiungere il suo posto di lavoro sul centro sportivo ma anche le merci in qualche modo si devono spostare quindi va considerata anche quella variabile allora lorenzo partiamo da te intanto ultimamente io vedo i canali social fiab monza in bici ultra attivi non so se c'è stato un cambio di gestione anche sotto quel punto di vista o forse sono più attento io non lo so però vedo che state forse stanno succedendo semplicemente più cose però visto che siete molto più propositivi siete molto più attivi nel condividere le vostre proposte anche le vostre critiche facci un aggiornamento su quelle che sono ad oggi secondo fiab secondo monza in bici secondo secondo te i due o tre temi centrali che l'amministrazione attuale dovrebbe diciamo considerare con maggiore attenzione e allora diciamo mezzi nuovi ma vecchie battaglie perché appunto io dicevo ci sono da poco mi occupo per lavoro di comunicazione che anche questo insieme anche a dei nuovi soci che dei nuovi attivisti che si sono uniti all'associazione che aiutano insomma hanno portato anche nuove energie ci siamo attivati di più sui canali social anche perché in questo momento sia da una parte c'è più attenzione ma anche più eventi più cose che succedono forse anche questo che dicevi è vero e anche al momento un po il nostro unico mezzo di dialogo perché come forse sai abbiamo richiesto tante volte un incontro con l'amministrazione che al momento non c'è concesso sinceramente l'ho letto ma non ho voluto come dire non mi sono intromesso nel senso che formalizziamo bene questa cosa tanto immagina l'avete pubblicato quindi pubblica un incontro col sindaco e con l'assessore alla partita immagino sì in particolare con il sindaco diciamo con l'assessore arena già capitato di confrontarsi in passato parliamo sempre di era pre covid ovviamente per varie questioni adesso quindi avendo rilanciato diverse proposte tra cui appunto anche questa petizione che è stata firmata circa 1700 persone mi pare adesso a cui hanno aderito tante scuole in cui fanno parte tantissime persone quindi parliamo di migliaia di studenti ricordiamo il nome come si fa a reperire questa petizione online la petizione si trova nella nostra è su change.org la trovate nella nostra pagina facebook in cima diciamo perfetto fissata in alto come si esatto fissata in alto e anche su instagram è il nostro link in bio comunque mariangela che ringraziamo ha già messo tra i commenti anche il vostro guardate lo mettiamo anche qui così rinforziamo ancora di più il il contatto ok quindi c'è questa petizione che è finalizzata che cosa se ho capito bene a unire i punti cioè il appunto quando parlo di vecchie battaglie cioè il famoso spezzatino di cui si parla a Monza è quell'insieme quella quella mappa dell'orrore quella un po' strani punti cioè tipo da settimana enigmistica che andrebbero collegati ora con la possibilità appunto di queste corsie ciclabili introdotte con il nuovo decreto c'era la possibilità anche di intervenire dove prima magari c'erano dei limiti dati dalla dimensione eccetera mentre ora anche dove questi limiti non ci sono l'intervento si può fare e poi parliamo di una riga bianca tratteggiata per terra non dato non di poco conto anche a costi decisamente inferiori rispetto alle vecchie progettualità i tempi e i tempi anche infatti abbiamo visto tante tante città si sono mosse chi nella notte dall'oggi al domani sono comparse ciclabili chi ci lavora di più poi però poi non vi rassegnate nel senso che probabilmente questo incontro con il sindaco potrebbe ancora avvenire nel senso non è non avete non lo auguriamo noi cioè stiamo aspettando una data abbiamo qualche scritto sollecitato aspettiamo una risposta poi ho visto che ci sono oltre a questa petizione a questo progetto diciamo generale che è fondamentale perché io ricordo ora faccio il mio pezzettino quello che un po più mi mi compete è bellissimo inaugurare ciclabili nuove la tentazione di tagliare il nastro la politica ogni tanto cede un po a queste pulsioni ma è molto è ancora più importante secondo me fare un quadro della situazione attuale e cercare di collegarle tra di loro altrimenti va in bici poi rischi un pochino la vita poi ritorna in bici poi non funziona tanto bene e ci sono altre almeno altre due progetti diciamo in corso sempre per quanto riguarda piste ciclabili no lorenzo sì no vabbè una cosa qui teniamo molto anche il discorso delle strade scolastiche avevamo fatto richiesta anche lo scorso anno abbiamo avuto più incontri per appunto noi proponiamo una chiusura temporanea in entrata in uscita dalle scuole iniziando da quelle primarie per evitare ai bambini fondamentalmente di trovarsi soffocati dall'inquinamento perché appunto abbiamo portato dei test effettuati alla scuola Taccoli in cui appunto si vedevano dei picchi proprio in entrata nel test che abbiamo fatto era l'orario mi pare di entrata dei bambini a scuola e appunto richiesta che si scondano frontalmente con una abitudine non troppo sana dei genitori non tutti qualcuno di praticamente entrare con la macchina fin dentro la scuola per prendere il più vicino possibile e andare via quindi un pochino in controtendenza e poi scusami perdonami lorenzo c'è anche la questione della brumosa no della della ciclabile che dovrebbe diciamo ci sono due lavori in partenza o partiti partiti non partiti no allora ho sentito che sulla brumosa ho visto che sono iniziati ho visto ho sentito che sono iniziati dei lavori a partire da Brugherio appunto questo collegamento tra Brugherio e Monza e poi vabbè l'altro lavoro che si aspettava da tanto è appunto il collegamento tra via Borgazzi e la futura fermata della della metrobettola questi lavori abbiamo visto essere annunciati in partenza all'avvio dei lavori il diciotto maggio ieri appunto scrivevamo chiedendo che fine avessero fatto perché appunto abbiamo visto che l'indomani dall'avvio dei lavori i mezzi presenti sono scomparsi operai non se ne sono visti e quindi anche un pochino comunale alza le mani perché o hai un rapporto diretto con l'assessore come forse qualcuno di maggioranza ha altrimenti tu presenti un'interrogazione per capire come mai siano spariti ma ora che ti arriva la risposta tendenzialmente spesso sono ritornati quindi ci sono questi vuoti un po' difficili che forse Thomas può spiegarci un pochino visto che era dall'altra parte della barricata nel senso mentre io e te Lorenzo siamo quelli che proviamo a chiedere e a vederci accolte diciamo le nostre proposte Thomas è stato dalla parte di chi poteva dire questa è una buona idea e questa è una buona idea provi a spiegare in due parole ma non tutti magari la conoscono monza mobilità quali sono i compi che esiste ancora tu eri ti ho presentato come l'ex amministratore unico però monza mobilità esiste ancora di che cosa si occupa ma monza mobilità rispetto a quando ci sono arrivato io che era la società partecipata del comune che si occupava della gestione della sosta a pagamento in struttura in alcuni casi o prevalentemente su strada in città è poi diventata nel giro di poco la società che in realtà si occupa della mobilità in generale un po' come braccio più operativo ancora più operativo del settore mobilità e quindi rientrano nei suoi compiti la gestione della mobilità condivisa per cui il carta sharing per quel che potrà esserci e ci sarà il bike sharing con lo sviluppo che ha avuto che potrà ancora avere anche la questione dei monopattini ne avevamo già discusso quando ancora quando c'era ancora io purtroppo era un periodo di transizione strana col decreto vi ricordate il decreto toninelli come è stato modificato eccetera e poi si occupa della mobilità elettrica della della ztl per quella gestione ztl dell'info parking i parcheggi che avete visto i pannelli indicatori ormai sono tutti funzionanti ritornati funzionanti è un'attività che abbiamo svolto e poi si occupa di supporto alla pianificazione quindi il piano di traffico e ancora di più il pooms queste sono la totalità delle cose perfetto ho dimenticato la permissistica per me sì per i disabili ztl accesso tutto quello lavoro devo entrare in centro devo ok perfetto hai citato il pooms che è un gigantesco argomento che sicuramente anche lorenzo conosce molto bene e che credo sia stato introdotto nel 2014 per la prima volta formalizzato il 2014 aggiornato un po nel 2019 diciamo che i comuni dovrebbero essere tenuti a elaborare un pooms che è il piano urbano della mobilità sostenibile che non è altro che mi hai detto in maniera molto semplice come dire l'integrazione di tutti quelli che sono i piani che già un po regolano appunto il traffico il trasporto di merci il trasporto di persone le ciclabili li mette tutti insieme crea un armonico progetto unico finalizzato immagino dal nome spero perché io ancora non l'ho visto alla sostenibilità quindi a un minor diciamo consumo di 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 energia fossile piuttosto che di quindi migliorare la qualità dell'aria eccetera eccetera è corretto più o meno il puns ha una differenza sostanziale spesso anche quando quando seguivo più direttamente un po l'attività in città sentivo anche in consiglio parlare il puns in maniera oggettivamente un po impropria non è uno strumento di facile realizzazione uno strumento fondamentalmente è di carattere strategico cioè è come dirci noi tra dieci anni come vorremmo vedere monza da qui in poi cerchiamo di definire cosa serve quali sono gli interventi le macroattività è uno strumento di pianificazione lungo periodo che è difficile sviluppare giustamente introdotto nel 2013 dalle linee guida europee 2019 l'affinamento e io faccio parte del gruppo dei 180 circa esperti europei che hanno lavorato l'affinamento delle linee guida che abbiamo presentato poi a gröningen nel 2019 l'abbiamo avviato a monza e nel l'anno scorso abbiamo cominciato a lavorarci so che monza mobilità con l'ufficio mobilità ci sta lavorando però è indiscutibilmente un piano che non può in nessun modo essere predisposte meno di 18 24 mesi se consideriamo tra l'altro che la fase iniziale proprio nello schema delle linee guida europee il quadro conoscitivo cioè conoscere quello che succede in città i punti di forza di debolezza come si sposta la gente c'è uno svantaggio enorme che ha avuto dovuto affrontare monza mobilità io l'ho gli ho dato l'avvio a maggio dell'anno scorso poi però l'estate non è un periodo in cui si possono fare analisi sappiamo tutti che è diverso nell'autunno avevamo dato un incarico per una società esterna e questa società esterna nei primi mesi di quest'anno dovrebbe aver consegnato tutto il quadro conoscitivo poi oggettivamente il periodo della pandemia credo che abbia giustamente spostato l'attenzione per cui dal mio punto di vista sarebbe lecito e ragionevole aspettarsi che un pooms di monza possa essere predisposto anche se arrivasse a fine duemila e ventuno metà duemila e ventuno secondo me non sarebbero tempi assurdi i tempi sono lunghi poi dipende da quanto da quante risorse ci si mettono però ecco l'importante non confonderlo anche qui altro come mobilità viabilità non ha nulla a che vedere in termini di contenuti con il piano del traffico invece è quello più operativo però il pooms è una cosa da sviluppare da fare l'altro il piano del traffico proprio per sua definizione è a breve termine ogni cinque anni andrebbe rifatto tipo ogni due ogni due ogni due anni andrebbe rifatto però qui onestamente a monza considera che il mio che era un errore teorico è figlio della mia esperienza nel senso che io mi chiedo ma se ogni due anni andrebbe rifatto perché non ne ho mai visto uno che sono da sette anni che sono così comunale a monza e non riesco mai a vederne uno e pensa che io speravo speravo nel pooms perché nel duemila e appunto tredici e quattordici se ne parlava e io sono d'accordo con thomas rispetto al fatto che un documento così strutturato e così complesso abbia la necessità di richiedere il suo tempo ma mi permetto anche sempre di far notare che nell'arco di questo tempo mi piacerebbe che venissero coinvolte tutte le parti quindi le associazioni naturalmente quindi gli altri gli altri gruppi politici perché metterci 18 mesi vorrei che non diventasse arrivare tra 18 mesi con un documento fatto e finito in aula con la sola con il solito approccio e ma non fatecelo modificare che ci abbiamo messo 18 mesi per farlo e ho capito ma io adesso lo vedo per la prima volta no quello quello io credo sinceramente di notti di devo dire per per onestà e trasparenza io quando ho avuto quando mi è stato chiesto di cominciare a dare l'avvio al pooms è stato mi è stato chiesto nella maniera più corretta ed esaustiva di questo mondo cioè con uno stakeholder engagement importante con la coinvolgimento del dei soggetti esterni bisogna anche un po bilanciare anche a livello europeo c'è una guerra di di vedute no chi vive assolutamente di stakeholder engagement inteso proprio assolutamente condivisione fino all'ultimo cittadino chi invece ha una posizione un po diversa cioè l'engagement può arrivare in una fase propositiva in una fase critica successiva con pesature diverse capirai che se dobbiamo mettere in piedi una strategia di governo della città a lungo periodo che tra l'altro una volta sottoscritta chiunque arrivi nel 2022 e nel 2027 anche dovrà stare a questa strategia è evidente che si debba cercare un po anche comunque di concentrare l'attenzione sulle cose ovvio due domande due domande direttissime una testa la prima molto più buona rivolta a lorenzo ti viene chiesto che cosa carmen ti chiede che cosa pensi del bike sharing a monza prima che cosa pensi del sistema bike sharing e poi di come è stato concretizzato a monza anche in prospettiva futura che lettura ne dai come come ti sembra bike sharing in generale secondo me è molto positivo perché specialmente per chi si muove da una città all'altra gli permette di arrivo a milano ipotizziamo arrivo in un'altra città non sono andato con la bici che purtroppo anche trasportarla magari in treno è comunque rimane un po scomodo ha diverse problematiche e prendo la mia bici dal da una stazione vado sul posto di lavoro a monza appunto la vedo sempre in modo positivo nel senso anche tra l'altro nel nel bilancio partecipativo in cui abbiamo collaborato con chi ha vinto cioè questo importiamo il progetto amsterdam appunto abbiamo proprio pensato anche una parte che sarà un bonus per chi farà il il bike sharing quindi diciamo omaggeremo una parte dell'abbonamento una piccola parte la prima ricarica un attimo fermato e in generale quello che su monza in particolare io non vedo pieno di bici di bike sharing che sfrecciano da tutte le parti o che vanno ad agio da tutte le parti il problema rimane sempre lo stesso cioè la mancanza di collegamenti specialmente se lo scopo del bike sharing cosa secondo me sensata e utile voglio collegare bene dalla stazione al parco turisti e adesso è un po dura sì si può passare dal centro però sappiamo che il centro comunque si è ciclopedonale e il sabato e la domenica io in bici lo lo evito generalmente perché è proprio difficile difficile muovere altre strade sono quelle che conosciamo sì 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 e tra l'altro già rispetto al primo step che non so ovvio che c'è una responsabilità politica ovvio che molto è dipeso anche dalla dal 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 budget che era stato investito il primo bike sharing monzese era qualcosa davvero di inaccettabile nel senso che anche volendo io l'avevo fatto come per per provare a dare un po' l'esempio no per sensibilizzare potevo prendere la prendevo in piazza trento e arrivavo in stazione cioè il tragitto erano le diciamo le traiettorie erano quelle adesso già nel secondo step con le periferie un pochino integrate già a un suo senso c'è chi vorrebbe un'accessibilità ancora più come di snella quindi no non devo essere io potrei essere un turista che arrivo a monza dovrei poter accedere al al mio mezzo senza dover iscrivermi e scaricare l'app piuttosto che c'è una diciamo un'accessibilità ancora più leggera però ovviamente questo anche dei contro rispetto a lo sappiamo l'abbandono piuttosto che alla non concurranza della gestione del del servizio quindi comunque voto positivo sul back sharing adesso invece thomas per te una domanda per niente facile e te la metto così guarda leggila tu stavi parlando del pums e renata ti scrive un tema molto 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 caldo perché è una società esterna cioè noi abbiamo un assessore alla viabilità e alla mobilità abbiamo una partecipata con un amministratore unico di dipendenti e per poter fare un piano abbiamo ancora bisogno di affidarci a degli esterni perché assolutamente no assolutamente no e questa è stata una scelta che ho condiviso io personalmente col con l'amministrazione con l'assessore con il sindaco e è stato dato in carico proprio a monza mobilità proprio per non dare incarichi esterni quello che ho citato prima dell'incarico esterno è solo esclusivamente un'attività di indagine perché non avevamo noi una struttura fisicamente predisposta a farla considerate che io nella nella mia vita quotidiana ho una società di consulenza che è tra considerata tra le migliori in italia per fare queste attività di indagine e quindi sapevo perfettamente cosa sarebbe servito sarebbero serviti strumenti organizzazione database tempo e non avremmo avuto le risorse in monza mobilità per farlo perché comunque monza mobilità a livello tecnico aveva ed ha tuttora l'amministratore ed ha due figure prettamente tecniche per cui non è strutturata per farlo l'ufficio mobilità ha una serie di persone che si occupano di miriadi di cose perché dalla rispondere al cittadino al predisporre il piano della segnaletica al semaforo qualsiasi cosa per cui non c'era questa struttura per farci un'idea al netto dell'italia dove i banquet delle città italiane per i punza adesso stanno cominciando a salire in questi giorni ad esempio le città di vicenza di novara di ancona hanno lanciato i bandi di gara parliamo di investimenti di 250 mila euro circa di base di gara quindi quando quando io ho avuto questa questa mia esperienza in monza mobilità ho parlato con l'amministrazione e gli ho proprio proposto di farlo internamente perché avremmo risparmiato parecchi soldi e questa linea è stata mantenuta il punto sta andando avanti in questo senso logicamente alcuni aspetti devono essere esternalizzati come ad esempio anche la gestione della via e della bassa scusate che è la valutazione di ambientale che deve essere fatta non può essere fatta dallo stesso soggetto che poi si valuta diciamo per cui quella parte può essere esternalizzata ma tutto il resto viene gestito internamente quindi un risparmio di risorse sicuro rispetto all'esterno neanche se ci fossimo coordinati prendo altre tue domande che sono rivolte ad entrambi io direi che la domanda che fa giustina sulla green way la rivolgiamo a lorenzo anch'io ho visto il progetto ho visto questo rendering bellissimo che vi invoglia proprio di insomma percorrere la cosa ne pensi rispondi prima a questa e poi vediamo quella prossima a thomas come dici tu un progetto molto bello molto affascinante e il progetto c'è almeno appunto sulla carta adesso non l'ho visto in tutti i dettagli ammetto anche qui c'è sempre io faccio sempre un discorso che è quello della volontà cioè se non riusciamo a fare un collegare un pezzettino a monza una strada di 200 metri adesso parlare di queste cose mi viene un po difficile c'è bellissimo d'accordissimo un sogno fantastico facciamolo bene però tornando un attimo pianeta monza pianeta monza perché pianeta terra si muove comunque ad altre velocità alle volte pianeta monza insomma non mi sembra della stessa idea quindi chiarissimo non aggiungo altro chiarissimo chiarissimo molto pragmatico come un buon presidente deve essere sognatore ma anche pragmatico e invece thomas questo è per te si parla di una lista spaventosa di là sul fianco no no tu segui me segui me segui me seleziono io quegli antipatici non te li citerò neanche jacopo ti chiede quali sono i limiti tecnici per realizzare una ztl stesa monza se ci sono allora no beh limite tecnico diciamo che la ztl più naturale che a tutti viene in mente di 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 pensare a monza invece questo che che l'articogolo che si è creato nel tempo è diciamo il centro storico di monza no quello che chiamiamo tutti centro storico quindi la cerca di via manzoni via pian concettualmente l'avevamo l'avevamo anche con si presa in considerazione nel senso che il numero di varchi tra l'altro a livello di infrastrutture pensate che un barco di quelli che vedete ha un costo non indifferente più i lavori civili l'istruttura l'infrastrutturazione eccetera per cui tecnicamente sarebbe stata fattibile ovviamente con i passaggi e le procedure e qui interviene una cosa che anche in questo caso in tutta la mia esperienza ho imparato a capire che purtroppo dalla parte della gente che non fa il mio lavoro neanche quando quando adesso sono dalla parte diciamo non del pubblico si fa fatica a capire quanto sia difficile portare avanti una progettualità in ambito amministrativo ed amministrazione quindi ad esempio per fare una ztl cambiando tutti i varchi bisogna sottoporre il progetto al ministero il ministero non è che ti risponde oggi ti risponde magari dopo sei mesi otto mesi quindi ci vuole parecchio tempo poi bisogna fare una procedura per definire chi fa il lavoro nonostante ci sia una società che l'abbia installata deve modificarla e andrebbero fatti tutti questi interventi ragionevolmente ragionevole come proposta quella di estenderla l'amministrazione attuale non per quanto ho visto io non era né favorevolissima né contraria c'era una era è stata una bozza d'idea che proprio era stata accennata ma la questione è che se voi fate in mente locale a monza all'interno del centro storico abbiamo una serie di parcheggi importanti abbiamo piazza cambiaghi piccolo che grande che sia utilizzato meno ce l'abbiamo abbiamo il parcheggio del capitolo abbiamo il parcheggio di piazza trento abbiamo il parcheggio a fianco all'edificio al palazzo comunale questi parcheggi comunque visto che sono in gestione a dei privati non possiamo in questo momento chiuderli quindi anche chiudendo la ztl non riusciremmo a limitare l'accesso a quelle aree quindi sarebbe comunque una ztl in realtà chiuderesti ben poco pochissime parti della città se ci pensate quello che invece io avevo visto che secondo me avrebbe dovuto essere potuto essere un po modificato era magari rivedere la percorribilità delle strade del centro per evitare che chi ha chi avesse il titolo ad entrare in ztl fosse autorizzato potesse utilizzare la ztl cioè il centro storico per bypassare il centro della città se tu arrivi da via manzoni dice vabbè io posso entrare dal barco dell'arengario scendo vittorio manuele ponte leoni sono arrivato in via bergamo velocissimo ecco quello potrebbe essere modificato da un punto di vista tecnico poi per il resto non c'è l'investimento comunque andrebbe fatto cioè sono dei soldi mi hai ricordato mi hai ricordato che in una nella mia prima campagna elettorale del 2012 mentre si parlava già del più che del traffico quello diciamo ordinario del centro proprio del traffico merci all'interno del centro storico cioè per capirci i famosi camion bartolini bartolini giusto comunque che proprio in via italia arrivano per allora questo ragazzo particolare con una visione tua particolare mi aveva suggerito di inserire nel programma elettorale una sorta di rete sotto suolo per poter far arrivare le merci con la forza pneumatica in montale da salvaguardare la superficie che l'idea sai a volte oggi sono realizzate una volta sembravano storne però i camion via italia in carlo alberto i camion proprio neanche a me queste cose qua non lo so nel 2020 mi sembrano strane no guarda io ho avuto con indicazione proprio dalla dall'amministrazione di controllare in maniera molto attenta l'accesso alla ztl l'accessibilità seguendo le indicazioni delle delibri giunte che hanno state fatte e ti dico che con con molta franchezza e rigidità a volte mi sono sentito mandare a quel paese nel in ufficio da dei cittadini però io ho veramente ridotto in maniera drastica il numero dei permessi e abbiamo imposto come scelta proprio era una scelta proprio dell'amministrazione che io ovviamente seguivo perché il mio ruolo era solo e solamente quello tecnico e gestionale di monza mobilità di ridurre quanto più possibile l'accessibilità alla ztl per chi non ne fosse autorizzato poi però devi anche considerare che ci sono una serie di elementi diversi cioè ci sono appunto le consegne domiciliari che in questo periodo abbiamo imparato tutti essere importantissime eh ci sono i lavori che vengono fatti ci sono una marea di di padroncini di magari del mezzo dell'idraulico eccetera che può essere chiamato per l'emergenza di una situazione d'emergenza non puoi dirgli di no quindi questo un pochettino di di quantità di traffico sicuramente all'interno dell'area rimane in questi giorni se mi dai 30 secondi ti dico io sto scrivendo il la proposta proprio io sono responsabile dello sviluppo della mobilità merci nel Pums di Larnaca che è una cittadina di Cipro e sono responsabile anche della progetta della progettualità dei sistemi ITS per cui dei sistemi tecnologici e la tendenza è questa cioè stiamo proponendo ma è un po abbastanza diffusa a livello europeo una riduzione del traffico una riduzione delle finestre temporali in cui i veicoli merci possono entrare nella ZTL sistemi di prenotazione degli stalli per carico e scarico riservati in modo tale che non parcheggiano ovunque ma che occupino i loro spazi e poi una serie di percorrenze strane all'interno della ZTL in modo tale che nessuno abbia voglia di entrarci tanto per bypassarlo per andare da una parte all'altra chiarissimo maristella ci ricorda che i lavori delle ciclabili dai giornali risultano attivi in realtà sono fermi ne abbiamo parlato all'inizio della diretta è difficile in modo estemporaneo così capire che cosa è successo probabilmente anzi sicuramente il sindaco e l'assessore lo sapranno speriamo a noi ci rimane di sperare che si sblocchi presso la situazione se diluvia è comprensibile come dire la ragione però insomma al prossimo primo giorno di sole ci aspettiamo tutti gli operai sul sulle nostre strade a lavorare per le nostre ciclabili lorenzo sei presidente da quando tu dal primo d'aprile un po scherzo dello scorso anno dal primo di aprile che che associazione hai trovato e quando appena sei diventato presidente intanto non lo so quando ci si candida presidente bisogna presentare un progetto delle linee delle ma se l'hai fatto ce le racconti altrimenti te le chiedo io da presidente appena sei diventato appena sei stato nominato avrai pensato subito ok mi piacerebbe che fiaba monza in bici prendesse questa direzione a che cosa hai pensato a quali cambiamenti a quale evoluzione per l'associazione allora diciamo sul discorso delle delle battaglie come dicevo prima cioè sono le stesse perché sono portate avanti da fiaba monza poi esiste da circa vent'anni forse c'è un'associazione davvero che c'è da tanto tempo sul territorio quindi le battaglie sono le stesse perché nel corso di questa lunga storia di di monza in bici non c'è stata un'enorme evoluzione sul piano ciclabile io la prima cosa che ho voluto fare come anche ne parlavamo all'inizio anche per il lavoro che faccio appunto occupandomi di comunicazione ho detto va bene le idee ci sono però abbiamo un problema di comunicazione quindi abbiamo iniziato a rivedere tutti i materiali dai cartacei al web eccetera cioè c'era mi ricordo quando sono arrivato ad aprile sulla pagina facebook la copertina aveva gli auguri di natale ecco detto ci dobbiamo un attimo aggiornare cioè adesso prolungando la quarantena però dai abbiamo aperto anche la pagina instagram per cercare di attrarre anche un pubblico più giovane perché comunque tanti anche degli attivisti magari erano più più in là e quindi anche devo dire con piacere che anche intanto sono stato accolto bene che ero appunto l'outsider cioè sono arrivato però ho visto che mano a mano dopo un attimo magari di dubbio mi hanno seguito mi supportano molto nelle varie idee proposte però appunto le idee sono quelle sono quelle le idee più belle esteticamente più accessibili a noi cittadini diciamo sì sì diciamo appunto anche quella mappa del uniamo i punti è fatta per essere facilmente comprensibile perché appunto dicevamo prima vedi quello sgorbietto e dici ma è possibile questa cosa e magari invece parlando delle singole vie citando le vie è difficile capire quando uno ti dice dobbiamo unire da via a via quindi invece quello è molto chiaro sì 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 quanto mi aggiungo questo oppure basta andare in bicicletta per io lo dico sempre cioè chi va in bicicletta bravo bravo sa i problemi della città io non gli devo spiegare cioè infatti io ti stavo proprio per chiedere quanto vai in bicicletta tu perché poi il problema è questo adesso io non vorrei fare quello io faccio tra tanti lavori che faccio mi occupo anche di aiutare le persone che hanno avuto dei problemi con le sostanze di tossicodipendenza eccetera e mi sento spesso dire ma cosa ne sai tu se non hai mai provato l'eroina per esempio no è un classico per chi fa il mio lavoro allora quindi resisto ogni tanto alla tentazione di dire di fare un po' lo stesso errore di dire però assessore lei come mi può parlare di ciclabili di biciclette non l'ho mai vista in bicicletta in vita in vita sua forse andando in bicicletta forse un politico la dico così forse un politico mentre farmi di eroina per provare ad aiutare meglio le persone sarebbe azzardata come azione un politico che si occupa di ciclabili di viabilità e di mobilità dolce forse avrebbe il dovere di girare in bicicletta la sua città sei d'accordo Lorenzo sono d'accordissimo tra l'altro aggiungo questo che circa un anno fa insieme appunto a quello parlavo all'inizio di questo gruppo tecnico di fiab quindi con degli esperti erano state offerte quindi a titolo gratuito un corso di formazione specifico per i tecnici sulla mobilità e oltre alla parte in aula poi c'è stato un giro in città quindi a vedere le varie ciclabili abbiamo fatto un percorso da da corso mirano girato su via le campagne così a vedere le varie tipologie di ciclabili realizzate e i loro problemi fondamentalmente quindi si andava avanti un pezzettino e si faceva un'analisi hanno partecipato tecnici da v mercate con corezzo milano c'erano vari rappresentanti così da monza nessuno si è fatto vivo quindi è anche questo secondo me vuol dire qualcosa cioè posso dire posso dire una cosa politica l'unica l'unica cosa un po' politica intesa in senso classico della diretta di oggi credo che sia stato un errore e oggi assegnare allo stesso assessore la delega alla sicurezza e alla viabilità e la mobilità perché sono due argomenti molto diversi uno in particolare quello della sicurezza che un po' per la sensibilità dell'assessore che abbiamo un po' anche per il clima che c'è in città e nel paese assorbe tantissime energie tantissimo tempo a discapito di tutte le altre deleghe sarebbe forse un bel segnale politico prima ancora di essere di dimostrare le proprie competenze un bel segnale politico quello di affidare la delega a un assessore esclusiva cioè viabilità e mobilità occupati di questa cosa non sarebbe male caspita abbiamo lo sport che come dire quando chi mette sport come sport cultura urbanistica no ma aspetta aspetta cioè insomma va bene che i nostri assessori sono tutti molto bravi hanno tutti molto tempo da dedicare alla città però così rischi di pregiudicare un po' la qualità del lavoro e il tempo dedicato questa è la mia personalissima opinione scusa aggiungo una cosa perché poi il rischio è che la sicurezza e la mobilità si incrocino in uno strano modo e quindi compaiono tipo i cavalletti questi ostacoli che dovrebbero proteggerci ma in realtà c'è ostacolo ci ostacolano sulle ciclabili ecco allora vediamo ok Thomas cosa ne pensi tu di quei come che si chiamano sono dei dissuasori come si chiamano tecnicamente va bene comunque comunque esatto Thomas sei favorevole o contrario tu a quel tipo di installazione che sono quelli per farci capire che sono quelle 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 installazioni che impediscono al ciclista di continuare sul dal rimanendo sulla bicicletta il percorso quasi sempre deve scendere fare un diciamo una 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 zig zag e poi proseguire sì in realtà in realtà quelli che sono stati installati a Monza sono stati installati in fondamentalmente in due due punti che che famosi no la passerella di via Gottardo e poi l'uscita famoso l'incrocio famoso eh che che tutti hanno criticato eh nella zona di regina Margherita quelli del parco quelli il problema è sì cioè da un lato è vero che la bicicletta deve essere favorita dall'altro bisogna mettersi purtroppo anche nei panni di chi poi una progettazione del genere la deve sottoscrivere perché anche questo è un altro degli elementi che dobbiamo sempre tenere in considerazione quando noi disegniamo una pista ciclabile facciamo una pista ciclabile al di là del sindaco che avrà detto che è l'assessore che ha tanto ha chiesto al bilancio i soldi eccetera si arriva al momento in cui c'è una persona che è una persona che firma il progetto e che si assume la responsabilità della bontà di quello che viene fatto in alcuni casi eh bisogna guardare un po' con più di di attenzione anche al problema sicurezza giustamente Lorenzo dice bisognerebbe lasciarle andare le biciclette eh all'estero le fanno ad Amsterdam lo fanno sì però Amsterdam lo fanno da ha cominciato col contagocce trent'anni fa mettendo delle protezioni ciclisti prima e dopo un po' di anni si è arrivati poi allo stesso modo lui mi potrebbe dire se mai si comincia mai si arriva però ecco eh dobbiamo cominciare a costruire un ambiente diverso per la mobilità e questo chiede richiede tempo e è una svolta di di mentalità importante intanto non ho mai avuto c'è una diretta davvero rifaccio fatica a star dietro a tutti tra le domande e i commenti però per farvi capire Thomas e Lorenzo su questo tema già arrivano proposte tipo ok c'è un problema di sicurezza benissimo invece di mettere l'ostacolo alla bicicletta mettiamo il dosso all'auto che rallenta obbligatoriamente a quel punto in modo tale da permettere lo scorrimento della bicicletta poi qualcun altro ci fa notare Paola mi sembra ok ma voi volete o no che che noi si prenda le biciclette perché ad esempio io per me la bicicletta non è la scampagnata ma la uso come mezzo di trasporto e allora un cargo bike perché ci porto anche i miei bambini e il cargo bike non riesce a fare quel movimento lì così tante tante cose c'è che addirittura a Meregalli suggerisce di proprio sulla via l'Ebrianza che faceva riferimento Lorenzo di trasformare praticamente i due lati uno farlo pedonale uno ciclabile in modo tale da permettere a quello ciclabile di non avere problemi sono tanti devi garantire l'accessibilità a tutti i passi carrai cioè se il via quileia per esempio quando abbiamo discusso la progettualità della pista ciclabile che attraversasse il cavalcavia di via quileia abbiamo un problema perché da tutti i due lati sul lato più vicino a Borgazzi ci sono dei civici per cui tu non puoi creare una pista ciclabile lì cioè credetemi nella realtà a livello pratico organizzativo non è così semplice e poi sicuramente si possono fare tante cose di più però abbiamo anche una normativa vi basti pensare che il codice della strada italiano è del 92 per cui stare dietro una normativa così antica che era pensata quando le biciclette ma neanche lontanamente pensavamo che sarebbero state diventate un mezzo di trasporto arrivare adesso proiettati adesso l'Italia intera ha un po' perso terreno poi è vero che Milano è più avanti però siamo pian pianino un'altra nota banale perché prima dicevamo Cipro si può fare uguale giusto per farvi capire l'ordine grandezza le misure che noi abbiamo preventivato adesso per il punto di Cipro da qui al 2030 sono 126 milioni di euro ok solo per la mobilità questo però è una grande idea di intanto ci arrivano ci viene fatto notare che anche i passeggini hanno dei problemi e anche le persone con disabilità motorie quindi le carrozzine hanno dei problemi tante cose tante cose e Merati dice quei cavalletti dissuasori sono ovunque dalla ciclabile via Bergamo alla ciclabile Datosi a Negrelli e si sono stati messi è una quella mi permetto di dire quella è una scelta politica quella è proprio una scelta politica no nel senso uno può essere favorevole o al contrario è lì che si capisce e non lo dico per fare polemica ma per trasparenza e lì si capisce se un'amministrazione decide di dare la precedenza così su una metafora viabilistica a un mezzo piuttosto che un altro cioè se io decido di creare si spera un piccolo disagio a volte non così piccolo alle biciclette per non crearlo alle auto sto facendo una scelta politica e c'è chi dice adesso vado a pescarlo che ci sia un problema eccola qua giustina dice diciamola tutta per tradizione il monzese non vede di buon occhio chi va in bici lo vede come un intralcio al traffico monza è chiaramente una città pensata in funzione automobilistica che non sta dicendo che a monza siamo sono tutti criminali sta dicendo che a monza tra l'altro il tempio del automobilismo per altre ragioni quindi c'è anche un po' una connessione logica però effettivamente si ha un po' questa sensazione che le auto abbiano sempre un pochino più di attenzione non so dove ho letto lorenzo forse tu un po' per lavoro diciamo per il tuo ruolo lo sai ho letto di sfuggita su qualche articolo di recente che in qualche paese si vuole far passare la legge che le biciclette hanno sempre la precedenza può essere colletto sta cosa cioè non mi interessa se sei se sei se hai sempre la precedenza non l'ho letto questo questo dobbiamo un po' ritararlo volte si fanno riferimenti all'era però l'ho letto l'ho letto va favorita cioè va favorita la sua percorrenza e appunto se non sbaglio anche nel nostro codice appunto si parla di cercare di sulle sulle ciclabili di avere meno diciamo spezzati cioè interruzioni non mi veniva la parola meno interruzioni possibili quindi agevolare in modo che il percorso cioè perché il discorso è vogliamo secondo me bisogna anche chiarire una cosa perché spesso anche quando prima si parlava l'auto in monstese io lo vedo anche nei gruppi come sei di monza seca un po' la pancia di monza permettimi questo io leggo sempre sotto qualsiasi posto in cui c'è la parola bicicletta ci sono gli stessi commenti sì ma tanto la ciclabile non la usano non la usano mai sono sempre in strada o forse anche certe volte non viene usata perché la condizione non lo permette e poi cioè se deve essere competitiva per recarsi al lavoro perché non è solo la bici per la scampagnata e cioè appunto spesso anche si fa tanta confusione tra quelli che sono i ciclisti urbani che principalmente c'è quelli di FIAB sono ciclisti urbani abbiamo tanti ciclisti anche sportivi io ad esempio non sono uno di quelli io non vado con bici da corsa in giro non mi muovo in città la uso proprio come mezzo per spostarmi banalmente quindi c'è un po' questo questo astio e forse anche un'incomprensione radicata diciamo sì che che mi permetto di dire va anche un po' diciamo bisogna lavorarci no nel senso che non bisogna rassegnarsi non vuol dire io poi tra l'altro facendo proprio per il ruolo che ho quante volte mi sono detto eh ma Monza è così di qualsiasi cosa eh ma Monza è così ok Monza esattamente come una persona no ha una sua sensibilità un suo carattere formato nel tempo ma Monza è anche tutto l'insieme degli individui e quindi anche l'insieme delle sensibilità e delle evoluzioni culturali che stanno avvenendo in città e quindi se FIAB Monza in bici così come Monza mobilità così come il sindaco così come tutti gli altri consiglieri iniziassero a eh in qualche modo diffondere un po' di più la cultura delle delle della della mobilità dolce piano piano con calma si potrà arrivare a obiettivi anche ambiziosi eh Thomas ehm Carmen ti chiedeva ti voglio fare una domanda che eh condivido molto per una curiosità che anch'io non essendo mai stato al governo di una città eh né da tecnico né da politico eh Carmen ti chiede quando hai vissuto l'esperienza quanto ci sei stato un anno un anno pieno almeno giusto un anno e mezzo nel complesso un anno e mezzo ok ti sei scontrato con la con la con la macchina comunale no con il pubblico eh venendo da un mondo privato eh quali sensazioni hai avuto cosa qual è secondo te il problema di Monza ma credo in genere tu possa generalizzare qual è il problema del 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 pubblico perché non riesce ad essere come diceva anche Lorenzo così veloce così cosa si cosa si potrebbe fare? Eh purtroppo credo che sia proprio una rivoluzione che servirebbe in Italia perché la cosa che ho visto più impressionante è che il fatto che come tu ben sai i comuni e le amministrazioni vivono di atti di documenti scritti quindi eh facevo l'esempio banalissimo a qualcuno che mi chiedeva questa stessa cosa del famosissimo Ponte Colombo si ma perché un anno ci vuole e a Genova perché Genova hanno dovuto fare un intervento speciale per una cosa straordinaria eccezionale e e han finito per l'amor dio un altro mondo però eh i passaggi sono quelli cioè se tu vedi che il Ponte Colombo ha una problematicità una criticità e potrebbe crollare da un momento all'altro stesso discorso dicevamo prima firmi e lo lasci aperto da quel momento vuol dire se succede qualcosa è colpa mia allora lo chiudi ma nel momento che l'hai inchiuso come tu ben sai devi scegliere chi fa le prove per verificare quanto possa crollare o come bene procedura di gara pubblicazione tempi ci vogliono tre quattro mesi almeno perché devi fare la selezione scegliere i ricorsi eccetera dopo che li hai fatti devi darli in carico ma c'è la seconda arrivata che ti fa ricorso insomma la burocrazia italiana eh in queste attività è infinitamente lunga ti basti pensare che io dal lato privato normalmente facciamo una gara di appalto per avere l'incarico famoso del Pums quelle di che citavo prima e ti chiedono addirittura di essere pronto a rinnovare la tua garanzia fidelisoria la tua disponibilità all'offerta per 12 mesi perché non sono sicuri se riescono a darti l'incarico nell'arco di 12 mesi per cui quello che ho visto è è questo devo dire che eh monza mobilità è stata creata ed è plasmata ed è tuttora il braccio operativo che è un po' più snello ha qualche operatività in più pur nella nelle normative però avere un soggetto in più diciamo questa sovrapposizione efficiente di un ufficio mobilità e del di monza mobilità può permettere una una velocizzazione delle cose chiudo banalissimamente facendo un po' riferimento dicevi prima tu figurati se io non dovessi essere favorevole a un assessore a mobilità viabilità no anche perché dovessero dire a me occupati di sicurezza saprei far nulla no certo però eh come tu pensai monza ha se non sbaglio qua mi correggi tu nove posti un numero c'è la legge impone un numero minimo di massimo di assessori massimo di assessori e le deleghe sono veramente tantissime per cui poi però ci sono dei trucchetti ci sono dei trucchetti puoi creare un consigliere delegato è già successo in passato ci sono degli degli escamotage oppure sacrifici un'altra delega semplicemente anche decidere di non sacrificare è una scelta politica nel senso si mette nel 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 mischione un tema tra l'altro Monza dove il traffico no insieme a Palermo Monza e Palermo per citare Benigni sono le due città dove il traffico è assolutamente uno dei problemi più più percepiti in questo cerchiamo cioè consoliamoci cioè anche qui i soliti paragoni e confronti no la la sosta che costa tantissimo eccetera noi monzesi eh che ho imparato in questo periodo eh tendiamo un po' a lamentarci veramente molto di più cioè prendiamo la eh la la caso di Pesaro per dire che la ciclabilità può cambiare il mondo lo citiamo ormai da anni e non ci rendiamo conto invece del 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 fatto che viviamo in una città che ha caratteristiche totalmente diverse ma a me piace però a me piace perché se vi se esposta nel modo giusto anche questa modalità molto ambiziosa e ti trascina verso l'alto no Thomas tu sei padre sei tuo tuo figlio ed è bello quando tuo figlio dice papà che bello sarebbe essere presidente del consiglio o amministratore delegato eh cioè punti in alto perché così tiri su come dire il livello del quindi io eh lo dico sempre lo faccio anche in aula perché poi è un classico da parte di chi amministra citare eh raccolta differenziata a Monza e siamo un'eccellenza rispetto e vengono citate con tutto rispetto province dove tendenzialmente non c'è una cultura della raccolta rifiuti no io mi voglio paragonare al Trentino al Toadici voglio paragonare alla Val d'Aos voglio paragonare ai migliori perché è così che si porta Monza poi ad eccellere davvero 54 minuti ho perso la scommessa con tutti che mi ero impegnato dico vedrete che non durerà più di 30 minuti però i temi sono tanti le domande sono tante tra l'altro Renata mi sgrida e mi dice guarda che non hai letto una mia domanda più in su Renata non è che non l'ho letta forse l'ho letta ma davvero non c'è il tempo materiale tra l'altro invito sia Lorenzo che Thomas di buttare un occhio sul post perché magari continueranno a scrivere domande qualcosa ci è sfuggita le risposte potrete riceverle anche per iscritto io faccio ringrazio faccio un in bocca al lupo a Lorenzo per la sua carica di presidente in FIAB da quanto dura la carica ancora è ancora un anno ancora un anno hai ancora un anno di lavoro ma c'è puoi fare il doppio mandato si può ma io ho già detto che mi successo è una donna io aspetto passerò la posizione io finisco il mio mandato molto bene molto bene ottimo gesto anche questo ringrazio Lorenzo ringrazio Thomas ciao Thomas tu in bocca al lupo per tutte le tue attività nella tua azienda privata magari ci aggiornerai sui tuoi lavori in altri comuni in altri paesi anche se sono sicuro tu sia rimasto in buoni rapporti con chi ci amministra e quindi potrai condividere con noi le buone idee e soprattutto suggerirle a chi a Monza può davvero decidere per fare in modo che a Monza finisco con due domande allora due domande velocissime Thomas una cosa cosa nella tua carica di un anno e mezzo non si è riuscito a fare di poco avresti voluto fare e ti è rimasto un po questa cosa sospesa del non fatto eh oddio non questa è una domanda veramente tosta perché mi fai pensare a tutto quello che che mi era venuto in mente però no direi che sono più le cose che credo di essere riuscito a fare di cui sono contento che sono la posso suggerirtela io posso suggerirti una io dimmi poi mi dici magari un po l'efficientamento nella gestione del parcheggi del sistema per i parcheggi e efficientamento nel in che senso allora io ho il vanto alla fortuna di poter dire che sono stato io allargare gli stalli del del parcheggio di del San Gerardo che tutti vedevano piccoli da trent'anni sono larghi abbiamo digitalizzato la permissistica che è una cosa carina stavamo lavorando sulla sulla famosa rinnovamento dei parcometri delle strutture per consentire una tariffazione dinamica della sosta e anche lì la burocrazia è infinita e le procedure sono lunghe e il budget è enorme quindi purtroppo questo blocco di tre mesi che ha portato credo a monza meno io in italia so per certo che il 95 per cento di sosta se ne è sparita in questi mesi no come era prevedibile essendo adesso sono anche nel consiglio dei propri diri di ai park per cui seguo le società che gestiscono i parcheggi e si è ridotta tanto quindi le entrate di monza mobilità sono di meno per forza e cose gli investimenti dovranno essere modificati ma monza avrà mai la prima mezz'ora gratuita io sono convinto di sì nel senso che che ecco tecnicamente qui rispetto alla domanda di Jacopo prima sulla ztl tecnicamente è molto ma molto più complessa perché è giusto uno una volta che si fa una scelta del genere bisogna garantire il fatto che quella scelta possa essere mantenuta e controllata e quello è complesso veramente complesso io volte l'ho detto sui social mi ricordo discussioni lunghe con con mosca con tanti personaggi che ogni volta che mi vedevano mi dicono ma la mezz'ora gratis è complessa e ve lo dico non non da da tifoso dell'uno all'altra parte perché credetemi io non ho mai avuto indicazioni sul fai una cosa piuttosto che l'altra cioè l'idea era fai una cosa che possa servire alla città il rimpianto forse di aver dovuto lasciare la posizione ci sono state una serie di allineamenti astrali e purtroppo ho dovuto fare una scelta come hai visto non ti ho fatto domande abbiamo letto sui giornali quello che hai dichiarato io tengo per buono quello se vorrai fare se e quando vorrei fare outing ti leggerò come ti leggeranno gli altri outing ti leggerò così mi fa paura c'è mio moglie un'espressione ampia un'espressione ampia il livello di pressione era veramente arrivato ad alti livelli per cui ci sono stata insomma una serie di combinazioni di chiacchierate di condivisioni di idee per cui è stato il momento è stato quello fortunatamente adesso siamo in una situazione diversa vediamo io disposto chiunque voglia parlare di mobilità collaborare bravissimo questa è la cosa importante lorenzo tu sei presidente di un'associazione a monza tu sei non che ci sia qualcosa di male tu sei monzese sì no nel senso tu sai che funziona così no uno a monza solitamente no entra in un'associazione fa parte in un'associazione fa carriere poi a un certo punto si candida spontaneamente succede questa cosa o viene o meglio ancora viene candidato arrivano i grandi partiti tendenzialmente che sono quelli che hanno più fascino verso chi legittimamente vorrebbe diciamo realizzare i suoi progetti e gli viene detto tu che hai lavorato così bene anche se ti hanno bocciato tutto fino a genovino tu che hai lavorato così bene ti vado a candidarti per me ad oggi naturalmente può succedere di tutto da domani in poi però è un'esperienza che ti senti di escludere quella della politica diciamo intesa in senso diretto classico o è qualcosa che è una possibilità che è una porta che lascia aperta a chi vorrà coinvolgerti o addirittura se non fondando un movimento tuo tutto incentrato magari sulla mobilità d'oggi stai esagerando no allora diciamo non non cerco posizioni politiche assolutamente io appunto ho il mio lavoro a un'agenzia di comunicazione che mi prende già tantissimo tempo perché appunto sono comunque un imprenditore poi poi c'è Monza in bici cioè che è il secondo lavoro spesso notturno quindi poi diciamo io dico spesso che comunque Monza in bici fa politica cioè fa attività politica ma è apartitica cioè questo è importante da infatti ti ho voluto ho voluto questa domanda in realtà nascondeva un po' questo questo retroscena nel senso che hai partecipato ad una ottima diretta organizzata dalla Monza che è una lista civica era è una lista civica che si è presentata nelle ultime elezioni oggi sei qui con me sarai disponibilissimo a parlare col sindaco immagino che anche con il partito democratico avrai degli interlocutori quindi questo è proprio siamo disponibili era proprio per sottolineare che era proprio per sottolineare anche la disponibilità anche era proprio per come dire condividere con voi quello che un mio un mio pensiero forte che troppo spesso le associazioni a Monza le persone che fanno parte dell'associazione perché l'associazione di per sé è sempre splendida e quando è pensata bene e quando la mission è ottima però le persone spesso in qualche modo si fanno un po' contaminare dalla politica che non c'è niente di male io faccio politica credo che la politica sia anche straordinaria ovviamente a quel punto l'associazione inizia a prendere una connotazione diversa e quindi se hai se se tu ti fossi la se tu fossi un un ex candidato del partito democratico faccio un esempio banale è chiaro che oggi allevi lui direbbe assolutamente no perché la porta sia sempre aperta ma in por su secondo me come dire è un po' è un pochino più chiusa rispetto che se fossi stato un candidato della lista civica noi con allevi per esempio no quindi la cosa importante che che dico un consiglio che non non è neanche bisogno però che che do a fiab e monzendici questa è quella di mantenere questa sua straordinaria neutralità da oggi e in futuro poi le persone possono fare le loro scelte liberamente legittime ci mancherebbe ma per poter realizzare davvero le cose in modo efficace è anche importante stare fuori ho fatto una diretta pochissimi giorni fa con marco cappato che è uno dei politici che io stimo di più che mi ha detto chiaramente che ha capito che per cambiare davvero le cose lui non si candiderà mai perché appena ti can appena sei dentro ci sono compromessi se porti argomenti sei divisivo invece da fuori tu puoi sensibilizzare portare all'attenzione di chi sta governando in quel momento e le probabilità di realizzazione di quel tuo progetto sono maggiori uguale vale per fiab e per tutte le altre associazioni del territorio questa è una mia considerazione personale un'ora e tre minuti mi vergogno sono profondamente in imbarazzo auguro a voi una splendida serata con le rispettive famiglie compagni amici e ci aggiorniamo presto e ci vedremo su qualche ciclabile a monza naturalmente se vedrete questa diretta anche in replica può capitare avete delle domande continuate pure a scriverle nei commenti perché se lorenzo che thomas che magari anche qualcuno ha rivolto a me anche se mi avete snobbato clamorosamente potrò rispondervi anch'io ciao e buona serata a tutti grazie ciao a tutti ciao ciao grazie paolo ciao a tutti ciao lorenzo grazie a tutti